andiamo a vedere come realizzare tutti i passaggi per ricreare il trucco della campagna Hot Tropics. Applichiamo su tutta la palpebra mobile l'ombretto Hot Tropics Diamond numero 02 che si può utilizzare sia con applicatore asciutto che bagnato. Lo applichiamo partendo dalla base delle ciglia su tutta la palpebra mobile. Con ombretto asciutto ora andiamo a stendere il prodotto anche fra palpebra mobile e palpebra fissa creando un'ombreggiatura che ingrandirà l'occhio. Con un applicatore pulito andiamo a sfumare il viola verso l'arcata sopraccigliare. Ora applichiamo Hot Tropics Diamond numero 04 nella palpebra fissa per creare una sfumatura dorata. Applichiamo sulla base delle ciglia la matita Automatic Liner numero 02 che è una matita che ha una lunghissima tenuta, è waterproof e si può utilizzare sia come eyeliner che come kajal. Applichiamo la matita Automatic Liner nel colore 03 come kajal nella palpebra inferiore. Applichiamo il mascara Hot Tropics nel colore 02 nell'arcata cigliare superiore. 01 nell'arcata cigliare inferiore. Applichiamo sulle labbra Hot Tropics Waterfall Gloss, un gloss idratante super brillante nel colore 03. Per completare il look applichiamo Lasting Color 728. Abbiamo visto tutti i passaggi per ricreare il trucco della campagna Hot Tropics, collezione che si basa sul contrasto e l'intensità del colore. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh